Per tutte le violenze consumate su delay in piedi signori davanti a una donna, 25 novembre stop alla violenza sulle donne. Per combattere contro un nemico devi conoscerlo bene, la violenza è un nemico. Per sconfiggerla devi imparare a riconoscerla, se stai giustificando comportamenti scorretti sei vittima di violenza, se ti senti insicura, se provi inquietudine, se pensi che meriti di essere trattata così sei vittima di violenza, se il tuo senso di autostima viene sminuito, se il tuo corpo viene deturpato, se la tua psiche viene distrutta sei vittima di violenza, chi ti vuole bene ti rende felice, non ti fa stare male, non dargli potere, scappa, non lo giustificare e se ti ha manipolata con abilità non temere, chiama il centro antiviolenza al numero 1522, ferma la violenza, ferma ogni tipo di violenza, no alla violenza contro le donne, no alla violenza di genere. Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere, sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri, si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica, che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.